La marineria di Manfredonia, dopo quella Toscana e quella Ligure, potrà tornare a pescare il rossetto, infatti in dirittura d'arrivo a Bruxelles l'iter per l'approvazione del piano di gestione che costituirà lo strumento di autoregolamentazione di questa specie ittica adulta. Il rossetto è una particolare specie ittica tipica del Golfo di Manfredonia, è una specie adulta che non si sviluppa, la sua taglia rimane simile a quella di un avannotto, ed è questa caratteristica fisica che ha fatto nascere una sorta di equivoco e per pescarlo occorre una autorizzazione speciale. Quella del rossetto è infatti considerata pesca speciale dalle autorità europee per poterle effettuare il necessario di un decreto autorizzativo. L'importante traguardo che si intravede è proprio il frutto dell'ottimo lavoro di squadra che ha visto coinvolte le istituzioni territoriali e comunitarie, le associazioni di categoria e i pescatori, trovando nella Direzione Generale della Pesca del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali un interlocutore attento e portavoce in sede comunitaria delle istanze degli operatori della marineria. Il Comitato Scientifico ad aprile concluderà i lavori per la concessione della deroga di durata triennale per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto nel compartimento marittimo di Manfredonia. Seduta monotematica del Consiglio Comunale di Manfredonia sotto i riflettori, il futuro dell'ospedale San Camillo da un po' di tempo al centro dell'attenzione per un sempre più ipotetico declassamento, a discutere di sanità non solo il sindaco e gli assessori con i consiglieri comunali in aula, anche i consiglieri regionali Gatta e De Leonardis e il direttore generale dell'ASL Foggia Vito Piazzolla. Piazzolla è stato molto chiaro, dobbiamo aspettare il piano di riordino ospedaliero che sarà presentato il prossimo 24 febbraio, ma è ormai scontato come del resto ha dichiarato anche ai nostri microfoni lo stesso Emiliano che l'ospedale di Manfredonia avrà funzioni di presidio di base creando una rete con gli ospedali riuniti di Foggia e con Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, due strutture di primo livello. Riccardi è preoccupato pur riconoscendo l'impegno della politica locale difende Piazzolla ma critica chi c'era prima alla guida dell'ASL Foggia con il quale il dialogo è stato pressoché assente. Non è una preoccupazione assolutamente fuori luogo, anzi è una preoccupazione che dobbiamo tenere in considerazione, dobbiamo tenere alta l'attenzione, dobbiamo difendere a denti stretti non l'ospedale di Manfredonia ma una sanità che sia percepita, che sia efficiente, che funzioni e se la Puglia è maglia nera in Italia mi sembra che sotto di noi c'è solo la Calabria e perché evidentemente i servizi in questa regione non funzionano, evidentemente i costi sono troppo elevati, evidentemente bisogna tagliare altro piuttosto che continuare nell'assurda scelta di tagliare posti lento, bisogna fare scelte con ragione. Con la Costituzione del Comitato Referendario Provinciale si è aperta ufficialmente la campagna contro la ricerca di idrocarburi nel mare adereatico. Ieri sera la prima riunione alla quale hanno partecipato alcuni sindaci di Capitanata e le associazioni ambientaliste coordinate da Raffaele Vigilante. Si vota domenica 17 aprile, obiettivo raggiungere il quorum, come vi muoverete? Niente, voglio ricordare che è un comitato ancora aperto e quindi possono aderire tutte le persone che vogliono perché stiamo cercando di costruire veramente una rete molto forte per portare quanta più gente possibile alle elezioni, sapendo che c'è una certa disaffezione nei confronti delle elezioni referendarie. Siamo presenti in tutti e 61 i comuni della provincia di Foggia e anche con tutti i sindaci che hanno firmato il documento il 31 di gennaio scorso nella nostra manifestazione in provincia e quindi contiamo di poter fare una bella campagna referendaria per cercare di arrivare a questo quorum che è comunque molto alto. Quindi siete fiduciosi, non temete il flop come qualcuno appaventato? No, articoli di giornali molto importanti e molto seri non parlano di flop, anzi fanno un'analisi molto precisa e concreta riguardo a quella che è oggi un'attenzione molto particolare nei confronti dell'ambiente. L'ambiente è vita, il mare è vita e dà lavoro a tantissima gente, quindi sono tutti un po' spaventati. Sequestro di un lidro balneare a Siponto. Nella giornata di ieri, su disposizione della competente autorità giudiziaria, a seguito di alcune indagini che vanno avanti da alcuni mesi, gli uomini della Capitene di Porto di Manfroni hanno posto sotto sequestro la struttura di uno stabilimento balneare sul lungomare in località Siponto. Durante tale intervento i militari operanti hanno sequestrato manufatti, vari adibiti a servizi vari, come le bar, locali igienici, depositi, superfici adibiti e alloggiati, pergolati, nonché pedane e camminetti. Il tutto in violazione della normativa demaniale e pesaggistica, in quali tali opere venivano realizzate in difformità e titoli in possesso del titolare dello stabilimento balneare. In particolare sono state violate le prescrizioni di carattere pesaggistico concernenti l'obbligo di rimozione dei manufatti entro il 31 dicembre scorso. Inoltre le opere non sarebbero facilmente ammovibili come prevedono i titoli rilasciati agli enti interessati. Nel corso dell'operazione gli uomini della Guardia Costiera Sipontina hanno provveduto anche a identificare il concessione dello stabilimento balneare responsabile delle condotte contro l'Ogem contestate dall'autorità giudiziaria. Cronaca esecuzione di ordine di carcere per un 46enne. I carabinieri di Manfroni hanno tratto in arresto un 46enne locale. Antonio Vivolo dando esecuzione ad un ordine di carcere messo nei suoi confronti della Procura della Repubblica di Foggia per i reati di furto aggravato, resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali, dolose gravi ed evasione. Reati commessi dal 2007 al 2013 nei comuni di Manfroni a San Giovanni Rotondo. Al termine delle operazioni di rito l'uomo è stato condotto presso il carcere di Foggia, ove sconterà una pena residua pari a un anno e dieci mesi, oltre a 400 euro di multa. La cultura della legalità in rete con una vita da social a Manfredonia. Farà tappa a Manfredonia venerdì 26 prossimo in piazza Papa Giovanni XXIII. Una vita da social, il più importante campagna educativa itinerante partita dal quartiere napoletano di Ponticelli il 26 settembre scorso in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico realizzata dalla Polizia di Stato e dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca sulla sensibilizzazione sulla prevenzione dei rischi ai pericoli della rete. La campagna educativa unica nel suo genere in Europa è diventata strategica per diffondere il tema della cultura, della legalità in rete affinché i ragazzi stessi giochino un ruolo attivo per fare del web uno spazio sicuro. A Manfredonia è una delle due città pugliesi dove sarà possibile interloquire con gli operatori della Polizia Postale. Grazie a tutti.